leonforte corso Umberto 148 va bene signora e mi raccomando un poco di prudenza sono mia mamma delle 12 figlie lei fece 12 figlie e io ad essere prudente ferma questa è una rapina ho la borsa o la vita? in che senso? questa è una rapina? no questa è una pistola in che senso? ma guardi bene è una pistola ah non vai a spiritu sacchimia ho la borsa ho la vita ma se scelgo di darti la vita questa la tengo in che senso? in che senso che le do la mia vita in cambio di questa ah zitta questa è una rapina e no questa è una pistola guardala bene ah 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 Sì, tu invece di parlare con il telefono è l'unico che fosse una gara Vabbè, ora risolviamo la cosa, tranquillo, tanto la macchina non è manco mia, è di mio cugnato, posso vedere? Vabbè, facciamo una cosa, hai una bozzicchia di fumante e ora festeggiamo Sì, certo, facciamo un caffè Vabbè, vieni, prego Vabbè, alla salute, tieni, bene E con va? Che c'è? E tu, un mese? No, io ho spinto a stradale, capendo Amore, devo dirti una cosa Cosa mi devi dire? Aspetto un bambino E da quando tendo? Da tre mesi Ah, ma secondo me non viene più Bello, stupo, sto a contatto con la natura, tanti alberi, bello, mi piace Sì, sì, sono d'accordo Ah, aspetta una cosa Ma che alberi sono qui? Salici No, capon, ci staccio scegliere No, capon, ci staccio scegliere